Il glutine fa male? Il glutine è una proteina naturalmente presente nel grano composta da gliadine e glutenine. Lo possiamo trovare principalmente nei prodotti come pane, pasta e altre tipologie di prodotti da forno. Contrariamente a quanto si pensi non va solo a catenare problematiche per chi ha una ipersensibilità, un'intolleranza del glutine o una celiachia ma anche a chi è sano. Questo perché va ad alterare la nostra permeabilità intestinale, ossia passano tutte quelle sostanze che di solito non dovrebbero passare. Molti non sanno che il nostro sistema immunitario per la maggior parte è presente all'interno del nostro intestino. Quindi tutte quelle sostanze che di solito non dovrebbero passare andando ad attivare il nostro sistema immunitario creano tutta una serie di reazioni che aumentano l'infiammazione del nostro corpo. In generale si può dire che ridurre il consumo di glutine fa bene al nostro corpo.